Ci sono degli avaiani qua a Grosseto in arrivo ragazzi, non è possibile, come sono questi avaiani? Guardate ragazzi, abbiamo delle avaiane originali che vengono dalle isole a avaie. Venite qua, forza! In sfilata, guardate che roba ragazzi, che meraviglia qua in mezzo ai tavoli. Guardate che belle donne sono avaiane, originali, l'apri sfilata. Ne abbiamo una anche un po' bigua, va benissimo. E vai! Hola! No, no, vai, 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 foto, foto! Che meraviglia!